accettato una legge di riforma delle autorità di sistema portuale che anche qui ha cancellato l'Abruzzo dalla carta geografica, perché l'Abruzzo, se togliamo la Basilicata che non ha particolare estensione di costa e di porti presenti sul suo territorio e il Molise per lo stesso ragionamento, l'Abruzzo è l'unica regione che si affaccia sui due mari, anzi anche sui tre mari compreso lo Ionio, quindi tra l'Adriatico, il Tirreno e lo Ionio è l'unica regione che non ha un'autorità di sistema portuale, ci sono regioni che ne hanno due o addirittura tre e la regione Abruzzo non esiste, è colpa mia se qualcuno ha accettato una riforma che ha messo la regione Abruzzo e i porti della regione Abruzzo in una condizione di almeno potenziale sudditanza nei confronti di altre regioni.